Buongiorno da Stefania Bonomi e ben ritrovati al nostro appuntamento, al primo appuntamento con l'informazione di Fano TV. Oggi è sabato 16 settembre e come sempre andiamo a vedere chi festeggiamo. Festeggiamo i Santi Cornelio, Papa e Cipriano Vescovi. Papa Cornelio muore nel 253, Cipriano Vescovo Cartaginese invece nel 258. Sono entrambe martiri, testimoni di quell'amore per la verità che non conosce cedimenti neppure davanti al sacrificio estremo. In questa data si ricorda la deposizione del primo e la passione del secondo. Vediamo oggi cosa ci riserva il tempo. Le temperature sono decisamente cambiate, non abbiamo più quel caldo che insomma faceva anche piacere per il mese di settembre, abbiamo ancora un tempo variabile a tratti instabile nelle ore pomeridiane con occasione per brevi fenomeni sparsi specie nelle aree interne. Oggi il tempo non è particolarmente bello, un po' nuvoloso ma domani, domenica, ci propone una buona giornata. Minimo 20 gradi, massimo 27. Possiamo ancora pensare di trascorrere una bella giornata in spiaggia. Il mare è poco mosso, il sole oggi è sorto alle 6.46 e tramonterà alle 19.16. E come sempre iniziamo la nostra rassegna stampa e oggi partiamo dal Corriere Adriatico. Vediamo cosa ci propone il Corriere Adriatico in prima pagina. Degrado, pazienza finita, scattano le sanzioni in centro storico, aumenta la pressione degli ispettori ambientali in vista del 2024. Rifiuti, deiezioni e mura imbrattate. L'assessore Franco Ellucci scattate foto e soprattutto segnalateci i trasgressori. Ed ancora la fotonotizia, una task force contro l'amianto, progetto condiviso tra comuni e privati. Vediamo le brevi di cronaca. Marotta, autista, della CRI accusato di molestie da due volontarie. Fano, nuova ASP, i sindaci hanno provato tutti gli atti costitutivi. Ed ancora Pesaro, ti presento il comune, i segreti del governare spiegate agli studenti. Corro dei sindaci, solo lavori fast dopo l'alluvione, basta ritardi. Ed ancora, torniamo sul delitto di Anastasia, no all'abbreviato, il marito rischia l'ergastolo. Ed entriamo in quelli che sono gli articoli principali. Vengono dedicate due pagine, due pagine molto importanti, sull'anniversario della tragedia di Cantiano dell'anno scorso. E qui ci sono le dichiarazioni dei vari sindaci, scusate, solo i lavori fast dopo l'alluvione, basta ritardi. Coro unanime dei sindaci dei comuni più colpiti dall'esondazione del 15 settembre 2022. Al di là della somma urgenza, pochi altri interventi. Strade, ponti, K.O., fiume ancora pericolosi. Quindi ancora la mentele. E partiamo subito, vediamo Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia. Da noi 147 famiglie, tuttora fuori casa ancora paura ogni volta che piove. Riccardo Pasqualini, sindaco di Barbara, nei nostri torrenti, tronchi e legnami come un anno fa. E ci spostiamo. Il sindaco di Ostra, Federica Fanesi, dobbiamo fare quanto messo per decenni. Il sindaco di Arcevia, Dario Perticaroli, le strade e ponti ancora oggi sono inagibili. Ed infine Alessandro Piccini, proprio sindaco di Cantiano, niente opere per la sicurezza del territorio. Purtroppo ancora c'è scontentezza per quanto riguarda la possibilità che possa arrivare ancora un'altra alluvione e che possano verificarsi le stesse tragedie e i danni di quello che è successo lo scorso anno. Ed andiamo a vedere invece a Pesaro. Degrado, pazienza finita, pronte al giro di vita, più controlli e sanzioni, rifiuti, deiezioni e mure imbrattate. L'assessore, scattate foto e avvisateci. Ripartono i controlli contro chi sporca e chi imbratta muri o facciate. Gli assessori Francesca Ferenquellucci ed Enzo Belloni annunciano dalla settimana entrante una stretta, rivolta anche a quei proprietari maleducati dei quattro zampi che non raccolgono gli escrementi. Un'intensificazione dei passaggi degli agenti di polizia locale e degli ispettori ambientali che si estenderà anche nel controllo dei writer o imbrattatori seriali. Non si fa tempo a ripulire che già dopo qualche settimana, se non il giorno dopo, che sia una fioriera o semplicemente un pezzo di muro, siamo di nuovo punto e a capo. ed ancora passiamo a quelle che sono le notizie di Fano. Il marito di Anastasia va a giudizio, reati da Ergastolo, no all'abbreviato. La giudice Marrone accoglie le richieste del PM Cerioni, processo in corte d'assise al via il 17 di gennaio. Rischia concretamente l'Ergastolo, Ammarra Mostafa Alashri, il marito di Anastasia, uccisa con l'accanimento dimostrato dalle 29 coltellate rilevate sul suo corpo nell'appartamento che la coppia in fuga con il figlio di due anni dalla guerra occupava all'idole egiziano. 43enne, ieri è stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio volontario pluriaggravato, oltre che per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e occultamento di cadavere. Un femminicidio esemplare nella sua dinamica e nella sua efferratezza che ha fortemente colpito la sensibilità della città di Fano e anche l'opinione pubblica nazionale. Tanto che venne il presidente del Senato, addirittura Ignazio Larussa, a rendere omaggio alla vittima con un mazzo di rose rosse deposto sull'uscio di casa del delitto. La mamma, 23enne ucraina, amante della musica che a Fano dava lezioni di pianoforte e lavorava come cameriera per ricostruirsi una vita, voleva garantire al figlio un futuro lontano dalla guerra e dallo scenario di conflitto. Ma alla fine il conflitto era quello diventato proprio con il suo carnefice, in un rapporto coniugale ormai deteriorati. Due giorni prima di morire, Anastasia aveva denunciato ai carabinieri di Fano le violenze e le vessazioni subite dal consorte. Restiamo ancora sulle pagine di Fano. Asp, via libera dal comitato dei sindaci, approvati tutti gli atti della Costituzione, dei nove componenti e era assente solo barbieri di Mondolfo, ora manca la ratifica dei consigli comunali. È stato fatto un altro passo avanti verso la nascita dell'azienda pubblica per i servizi della persona. Asp, il comitato dei sindaci appartenenti all'ambito 6 ha infatti approvato giovedì scorso gli atti del nuovo ente per la gestione associata dei servizi sociali a Fano, Fratte Rosa, Mondavio Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in campo e terre roveresche. Non era però presente il primo cittadino di Mondolfo, Nicola Barbieri, un'assenza già annunciata dallo stesso Barbieri che nel corso del recente consiglio monotematico a Fano aveva espresso valutazioni critiche rispetto al percorso adottato finora, approvati all'unanimità, lo statuto, la convenzione costitutiva e l'analisi pluriannale di sostenibilità economica. Passiamo alle pagine di Urbino. Una riforma senza soldi, gli ospedali non riaprono, il PD fa volantinaggio davanti all'ospedale contro il declino verso i servizi privati. E vediamo invece Valmetauro. Auto vola giù dal viadotto, giovane coppia miracolata, l'incidente nella notte a Villa Furlo. Per lui è scoriazione, lei si frattura un dito. Pauroso incidente stradale a Villa Furlo, per buona fortuna, risoltosi in modo miracoloso. Ieri a luna di notte due ventenni stavano viaggiando a bordo di un'auto all'uscita del tunnel del Furlo in direzione sud. Per causa in via di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo. Ha divelto il guardrail ed è finito nel dirupo sottostante sul letto del fiume. Una serie di circostanze favorevoli ha consentito alla giovanissima coppia di cavarsela senza particolari conseguenze. Ed ancora un caso di molestie sessuali. Questa volta succede a Marotta. Siamo state molestate in servizio indagato autista della Croce Rossa. Due giovani volontari e straniere ascoltate dal giudice del tribunale la denuncia al commissariato. Ieri davanti al giudice per le indagini preliminari di Pesaro l'incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni di una ragazza spagnola di 18 anni e di un'altra sua collega polacca di 29. Quello che sostengono è che un 62enne di Marotta, autista della Croce Rossa locale, avrebbe allungato le mani e avrebbe fatto diverse allusioni sessuali. La diciottenne ha raccontato che il 62enne nell'estate del 2022 avrebbe sin da subito iniziato a fare domande alla ragazza sulle sue frequentazioni e sulla sua situazione sentimentale per poi nel corso del loro rapporto di lavoro fare delle avance molto molto dichiarate. L'accusa, l'uomo accusato di violenza sessuale è difeso dall'avvocato Omar Severi che raggiunto al telefono non ha comunque voluto commentare. Dopo la denuncia i vertici della Croce Rossa hanno sospeso il dipendente 62 anni, oggi in pensione, ma che è rimasto comunque volontario. Passiamo a Senigallia. Emma, l'omaggio della maturità. I genitori riceveranno il diploma. Il preside del classico Perticaro lo consegnerà per ricordare la ragazza purtroppo vittima come ricordate della lanterna azzurra. È arrivato il diploma di maturità classica del valore ovviamente simbolico per Emma Fabini, la studentessa deceduta nella tragedia della lanterna azzurra. Il 30 settembre, giorno in cui avrebbe compiuto 19 anni, verrà consegnato dalla preside del Perticari ai genitori. La consegna alla famiglia di Emma verrà la mattina del 30 settembre al teatro La Fenice al termine della cerimonia del premio letterario Emma, il ricordo salvato. L'associazione Gli Amici di Emma ha indetto infatti proprio un concorso letterario dedicato agli studenti di età compresa tra 10 e 18 anni per ricordare l'amore per la lettura e la scrittura che aveva la quattordicenne tragicamente scomparsa a Corinaldo l'8 dicembre, come ricordate, del 2018. Abbiamo visto più o meno tutte le pagine del Corriere Adriatico e adesso andiamo a vedere che cosa ci propone oggi il resto del Carlino. Siamo al resto del Carlino, prima pagina. Molesti sessuali alla Croce Rossa, due volontari accusano, un autista ci palpeggiava ne abbiamo appena parlato sull'articolo del Corriere Adriatico. Bellissima notizia, neonata sola, la adottiamo noi, hanno otto figli e si fanno avanti per la bimba che la mamma non ha riconosciuto dopo il parto al Sal Sanvatore. Ed ancora fotonotizia, risparmio e solidarietà a Borgo Santa Maria tutti insieme per la comunità energetica, l'unione dalla scossa. Stesso articolo, l'omicidio, uccise Anastasia con 29 coltellate, l'ex marito rinviato a giudizio ed ancora alluvione, eroe per caso, mi tuffai e salvai quella donna. Ed ancora brevi di cronaca, droga, parco Miralfiore, spaccio indiretta, la rabbia dei residenti, appaltati i lavori, scuola Manzoni verso il futuro, ecco come sarà. Ed ancora interviste in comune con le scuse, classe vietata per la disabile, risolveremo il problema. Notizie di sport a fondo pagina, VL senza Banfort ma con Tortona regge ed ancora la vis va a Carrara, è ora di sbloccarsi. Entriamo subito nella prima pagina, siamo a Pesaro, il parco della droga, spaccio indiretta sotto gli occhi di tutti ogni giorno, è così. e quindi cani della guardia di finanza e carabinieri in azione al Miralfiore. Gli residenti senza una legge che spella i delinquenti è tutto inutile e intanto i pusher conquistano nuovi spazi e la popolazione dichiara la situazione è inaccettabile. Ed ancora la notizia di prima pagina, un cuore grande così, abbiamo otto figli ma vogliamo adottare la neonata rimasta sola. Ha 41 anni, otto figli ed è pronta ad accoglierne un nono. Non è in dolce attesa ma ha sentito quella stessa emozione quando ha letto sul nostro giornale la notizia della neonata partorita qualche settimana fa all'ospedale San Salvatore di Pesaro e abbandonata dalla mamma alle cure della struttura. Quella famiglia vorrebbe offrirgli a proprio questa mamma, anzi questa coppia di super genitori. Pensate, loro sono di Roma, vivono nella capitale ma da 15 anni vengono in vacanza a Pesaro. sono arrivati prima con i due figli che ora hanno 15 e 17 anni poi più o meno ogni due anni ritornavano con un bimbi in più. Gli altri oggi hanno 6, 13, 11, 8 e 7 anni e l'ultimo ha appena un anno. Pensate che bella cosa questa di voler adottare con così tanti figli con quello che è oggi il costo di vita per mantenere così tanti bambini un altro bambino. Veramente, veramente complimenti. Ed ancora, l'alluvione un anno dopo, Cantiano tra il donore e la rinascita, ma ora dobbiamo accelerare. Ieri la manifestazione e l'appello del sindalo Acquaroli. Presto i nuovi ristori. Anche la Premier Meloni ribadisce il nostro impegno a garantire tutto il sossettegno necessario a seguito dei fatti accaduti. Ed ancora qui sempre il resto del carnino dedica dei bellissimi articoli proprio alla commemorazione dell'alluvione che c'è stata lo scorso anno. Eroi nel disastro, quella donna salvata la raggiunse a nuoto e la portai in spalla. Ed andiamo alle notizie che riguardano Fano. Fano uccise la ex moglie pasticcere a giudizio. Il resto del carnino dedica un grande articolo a questo delitto. Lui e Mustafa ne abbiamo appena parlato. Il 13 novembre scorso accoltellò a morte la ventitrenne Anastasia. Ed ancora stesso articolo che abbiamo visto sul Corriere Adriatico. Molestie sessuale alla Croce Rossa. L'autista di 63 anni ci toccava. Fano gestire gli stranieri. Il problema è dopo i 18 anni. Laura Ricciati responsabile della Casa Lucia dichiara finché stanno in comunità c'è un controllo. La vera emergenza purtroppo è quella abitativa. Non mi voglio sottrarle al tema della microcriminalità ma oltre alla critica ci vuole anche la soluzione. Così Laura Ricciati responsabile di Casa Lucia la comunità di Cucurano che ospite minori stranieri non accompagnati che arrivano nel nostro territorio dichiara il problema della gestione degli stranieri non accompagnati purtroppo è quella che si verifica dopo i 18 anni perché finché stanno in comunità c'è un controllo perché una volta compiuti i 18 anni anche loro hanno il diritto di uscire in libertà come tutti gli altri giovani della loro età. sono minori non accompagnati solo i minori non accompagnati restano in comunità. Quando un progetto educativo non ha funzionato e il ragazzo ha creato dei legami devianti e malsani ho sempre chiesto all'assistente sociale di riferimento un trasferimento. Da quando gestisco Casa Lucia ho visto passare una trentina di ragazzi di cui tre progetti fallimentari. Uno è stato trasferito e due sono stati dimessi salendo ai disonori della cronaca. Ed ancora sempre a Fano taglio del nastro per la casa sull'isola uno spazio per facilitare la vita alle persone disabili. È stata inaugurata ieri mattina la casa sull'isola il progetto per lo sviluppo di autonomia nella vita quotidiana di persone disabili. Si tratta di un appartamento nell'area della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio adiacente al laboratorio già esistenze che è stato sistemato ed arredato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e di Marinelli Cucine. Nell'appartamento si svolgeranno le tipiche attività quotidiane legate alla gestione della casa come fare la spesa cucinare, pranzare, riordinare e pulire. Due stanze sono state adibite a laboratori di informatica ed attività creative. Restiamo ancora a Fano l'ex Manfrini al Comune Saramuseo della Marineria indirittura ad arrivo l'acquisizione l'obiettivo è quello di restaurare la storica Palazzini da decenni in disuso per realizzarci un sito da visitare e indirittura ad arrivo l'acquisizione da parte del Comune di Fano dell'ex asilo Manfrini che si trova nella zona del porto e che attualmente è di proprietà del De Magno l'obiettivo è quello di restaurare la storica palazzina da decenni in disuso per realizzarci un museo della marineria fanese il progetto è quello con il piano superiore destinato ad ospitare conferenze piccoli concerti ed incontri siamo sempre in Val Cesano siamo a Cogli al Metauro scuola bus disagi e pioggia disagi scusate a pioggia genitori in rivolta Cogli al Metauro alle prese confermate modificate orari ballerini e anche con un pulmino guasto con i bimbi a bordo è partita quindi la raccolta da parte dei genitori di firme fermate modificate orari ballerini e ieri anche un pulmino guastatosi con oltre 20 bambini a bordo genitori preoccupati arrabbiati accogli al Metauro per i problemi che stanno emergendo nel trasporto scolastico tanto che hanno preparato una lettera che verrà inviata al comune lunedì con la nostra nota spiega una mamma promotrice di una bimba che ha iniziato la seconda elementare chiederemo che l'amministrazione adotti con urgenza le misure per garantire un servizio efficiente e sicuro ed ancora passiamo ad Urbino PD contro la regione sanità solo dedicata ai ricchi manifestazione dei democratici per pretendere che il servizio pubblico non venga soppiantato da quello privato a pagamento il partito democratico di Urbino scende in strada per chiedere che la sanità privata non prenda il posto di quella pubblica ieri mattina vari esponenti hanno manifestato davanti all'ospedale di Urbino al fine di sensibilizzare i cittadini e chiedere unità tra le forze politiche nel cercare di ottenere miglioramenti sempre di più la sanità pubblica è messa in disparte per favorire quella privata commenta Giorgio Baldi segretario del PD Urbinate questo è un progetto che l'attuale governo intende portare avanti a livello nazionale ed è ormai chiaro la sanità pubblica è in difficoltà e si trovano meccanismi e situazioni che obblano i cittadini a scegliere il privato pagando il personale assunto manca ed è sostituito da tanti medici a gettone parliamo anche di spettacoli come facciamo sempre vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno a Pesaro per Hangar Fest oggi alle 16.30 con replica alle 18 va in scena a cortile di Palazzo Mosca Musei Civici oggi è l'ultimo giorno per vedere questa manifestazione torno sul Corriere Adriatico per dare anche qualche notizia a livello sportivo andiamo a vedere lo sport cosa cosa scrive oggi le pagine dedicate allo sport per quanto riguarda le novità sportive sono tornata sul Corriere Adriatico sport la vis oggi a Carrara per spiccare il volo dopo le due sconfitte immeritate è arrivato anche per la vis il momento di fare i primi punti ed ancora serie di il Fano prende Zammarchi e guarda agli svincolati arriva l'attaccante che fece faville nel Tolentino proprio con Padovani ma non è finita qui è Andrea Zammarchi il colpo di mercato la sminut dell'Alma che in prossimità del gong di chiusura del trasferimento tra società Didi si è assicurata un attaccante gradito al tecnico Marco Scorsini e pupillo del suo predecessore Andrea Mosconi e passiamo alla serie di Vigor il DS Moroni mette tutti sull'attenti domani alle 15 la sfida contro il notaresco non sarà una passeggiata ed andiamo a vedere anche una notizia che riguarda il basket VL la grinta non basta la Carpegna Prosciutto riesce a risalire da meno 15 ma è sconfitta da Tortona al trofeo Lovari di Lucca il team di coach Buscaglia è piaciuto anche in difesa e ha concesso meno di 70 punti agli avversari come sabato abbiamo concluso anche questa nostra ultima rassegna stampa io naturalmente vi saluto vi ricordo che noi ritorneremo con occhio ai giornali lunedì e lunedì la rassegna stampa sarà condotta dal mio collega Massimo Foghetti vi saluto vi auguro una buona giornata e come sempre vi ringrazio di essere stati con noi grazie a tutti